Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Appena possibile, quindi, ha iniziato il suo percorso di restituzione, aiutando i bambini, accogliendo le donne senza casa e insegnando italiano ai migranti. È stato fortissimo, è stato carico, è stato bello. Ho avuto la sensazione che esiste qualcosa di bello, non lo so, mi ha riempito il cuore. Sono contenta di poter far parte di questa gente fantastica, di poter costruire anche io un po' nel mio quello in cui credo. E di far parte di questo paese, infinitamente. Ci credo, io non posso non fare quello che è stato fatto a me, lo dirò all'infinito, perché per me è stato tutto. Quello che sto cercando, per quanto riguarda un paese, non c'è il mio. Ci credo. Ci credo perché vale, perché valiamo, perché qualcuno ha pensato che la mia vita valesse e io credo che valga anche quella di tanti altri. Buonasera.